Alle porte di Pompei, la grande villa suburbana di Civita Giuliana restituisce lo stanzino occupato da schiavi stallieri, forse una piccola famiglia, ancora incredibilmente intatto con tutto il suo corredo di povere cose. Una sorta di stantanea, documentata in anteprima e che accende la luce sulla vita degli ultimi nella ricca colonia romana seppellita dal Vesuvio nel 79 d.C. Una scoperta eccezionale perché è davvero rarissimo che la storia restituisca ai particolari di queste ville, illustra appassionato il direttore del parco archeologico Gabriel Zugtrigel. Uno spaccato eccezionale della vita quotidiana, del lavoro quotidiano di una parte della popolazione antica che poco nota attraverso le fonti ufficiali che sono sempre o quasi sempre dal punto di vista dell'elite e qui invece vediamo la vita di persone, di schiavi, di servi, di persone di uno stato sociale molto basso. E anche il ministro della cultura Franceschini applaude dettagli sorprendenti che permettono di compiere significativi passi avanti nella ricerca scientifica e che fanno di Pompei un modello di studio unico al mondo. Questa altra scoperta incredibile a Pompei dimostra che oggi il sito archeologico è diventato non soltanto un luogo per turisti, tra i più seguiti nel mondo, ma è anche un luogo in cui si fa ricerca, si fa innovazione.